Tagliamo le melanzane e friggiamole intanto prepariamo in un altro pentolino del sugo, pomodoro e basilico. Prendiamo una padella da forno e iniziamo con il primo strato di melanzane. Rimpiamo bene tutta la pentola ora mettiamo il pomodoro e una bella spolverata di parmigiano, tanti mettono anche la mozzarella, però io la preferisco solo con pomodoro e parmigiano. Un altro strato e per finire sempre il parmigiano riusciamo a fare un altro strato mettiamo in forno a 200 gradi per 25-30 minuti finché non si sarà formata una bella crosticina. Ecco il nostro parmigiano. Buon appetito a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!